scrittura creativa, racconti, stili, scrittori, dedicato integralmente a Frankenstein di Mary Shelley. Brevissimamente, chi era Mary Shelley? Shelley perché era la moglie del grande poeta inglese. Si incontrarono che lei era molto giovane, Shelley era già sposato, ma non viveva insieme alla moglie. Andarono a vivere insieme, siamo all'inizio dell'Ottocento in Inghilterra, quindi la cosa certo non poteva essere vista di buon occhio da parte della buona società, a cui comunque Mary apparteneva, sia per parte di padre, sia per parte di madre. Padre e madre che erano comunque loro stessi dei letterati. E come dirà nella prefazione di una edizione successiva di Frankenstein, l'edizione del 1831, il fatto che io, figlia di due persone di riconosciuta fama letteraria, abbia pensato molto presto nella mia vita di scrivere, non è strano. Ecco, l'occasione di iniziare a scrivere quello che poi diventerà Frankenstein viene data da un soggiorno che lei, insieme naturalmente a Shelley, insieme al medico letterato John Polidori e insieme alla sorellastra, che nel frattempo è diventata la compagna di Lord Byron, quindi davvero una compagine di grandi menti, grandi geni, si può dire, della loro epoca. Bene, Lord Byron aveva affittato una villa in Svizzera e invita, semplicemente invita gli amici a soggiornare alcuni mesi in questa villa, Villa Diodati. Quell'anno si rivela essere un anno particolarmente in fausto per le condizioni meteorologiche. Piove sempre, non riescono a fare le gite sul lago che avrebbero voluto fare, il tempo in qualche modo lo si deve passare e cominciano a leggere, leggere ad alta voce come si usava all'epoca, quindi una persona che leggeva e le altre che ascoltavano, dei libri che erano appena arrivati e libri di storie che oggi noi definiamo gotiche, storie di fantasmi provenienti dalla Germania. E allora Byron, e questo è quello che ci dice proprio la stessa Mary Shelley in questa prefazione dell'edizione 1831 del Frankenstein, allora Byron dice, perché non scriviamo tutti una storia di fantasmi? E allora tutti quanti si mettono a scrivere, nessuno finisce quello che ha cominciato. Bisogna dire che in quel momento Mary non riesce nemmeno a cominciare, gli altri non finiscono, ma lei non riesce nemmeno a cominciare. Ha qualche idea, butta giù qualche cosa, ma alla fine non riesce a fare in modo che le sue idee sparse diventino davvero un racconto. Lei dice, io mi diedi molto da fare per pensare a una storia, una che potesse competere con quelli che ci avevano stimolato all'impresa. Una storia che parlasse alle misteriose paure della nostra natura e risvegliasse fremiti di orrore che suscitasse nel lettore la paura di guardarsi attorno, che raggerasse il sangue, che accelerasse i battiti del cuore. Se non riuscivo in questo, la mia storia di fantasmi non sarebbe stata degna del suo nome. Così ci pensavo, ragionavo, ma era inutile. Provavo quella vuota incapacità di invenzione che è la pena più grande di qualunque autore. Ecco, in queste parole è davvero la pena più grande di qualunque autore. È il cosiddetto blocco dello scrittore, che in realtà di fatto non esiste, non come viene comunemente inteso. Però, in tutti i modi, molto spesso chi scrive fa fatica. Cominciare a volte può essere difficile iniziare a dare una forma concreta delle idee che abbiamo nella testa. E questo era esattamente quello che provava Meriscelli in quel momento. Ricordiamo che in realtà Meriscelli non era una scrittrice. Lei dice, certo, come eredità di famiglia, in qualche modo, io sarei stata più portata rispetto ad altri, ma di fatto lei non aveva mai scritto. In qualche modo si intestardisce, vuole continuare. E, in questa stessa prefazione, dice un'altra cosa molto interessante che può servire a tutti gli scrittori. L'invenzione, lo si deve ammettere con umiltà, non consiste nel creare qualcosa dal nulla, ma dal caos. Questo è fondamentale per chi vuole scrivere. Molto spesso si crede che le idee arrivino dal nulla. È la vecchia storia dell'ispirazione. Ma l'ispirazione andava bene per i greci quando si pensava che ci fossero delle divinità che appunto fornivano esternamente il materiale, le idee, l'ispirazione appunto al poeta o allo scrittore. Ma nel momento in cui non si crede più che esistano queste divinità, e allora questo fatto dell'ispirazione non ha più alcun senso di esistere. Diceva quindi Mary Shelley, è innanzitutto necessario procurarsi la materia prima, perché si può dare corpo a sostanze informi e oscure, ma non si può portare a essere la sostanza stessa. Quindi bisogna, nel caso della letteratura, avere più conoscenze possibili, applicarsi, tenere la mente aperta, e allora forse si riuscirà appunto, come dice lei, a dare corpo a sostanze informi e oscure. L'invenzione consiste nella capacità di cogliere la potenzialità di un argomento e nel potere di plasmare e forgiare le idee che questo suggerisce. Quindi questo è davvero un suggerimento di scrittura creativa proveniente direttamente da Mary Shelley, che in qualche modo potrebbe essere stampato e incorniciato in tutte le scuole di scrittura creativa, nella stanza ho messo con un post-it sul computer di chi scrive, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutte le nostre idee arrivano da qualcos'altro, e non vuol dire che le stiamo copiando, ma vuol dire che stiamo rielaborando del materiale preesistente che noi abbiamo trovato, che noi abbiamo studiato e di cui noi ci siamo forniti. Lei qualche anno prima aveva assistito a una conferenza che parlava di certe esperienze di Darwin, Charles Darwin naturalmente, ma soprattutto del galvanismo. è questo che le viene in mente in questo momento e dice sarebbe estremamente spaventoso l'effetto di qualunque tentativo dell'uomo di scimmiottare la stupenda meccanica del creatore del mondo. E questo però è l'argomento l'argomento che lei decide di trattare nel suo libro Frankenstein. L'idea era penetrata così a fondo nella mia mente che venne percorsa da un brivido di terrore e desideravo sostituire la spaventosa immagine della mia fantasia con gli oggetti reali intorno a me. Quindi davvero questa idea, una volta che appare in lei, lei l'affascina, l'affascina completamente. Comincia quindi a scrivere e comincia a scrivere con queste parole fu in una tetra notte di novembre e butta giù una serie di appunti. Non diventa un racconto in quella occasione, ma per sua stessa dichiarazione il marito Shelley insiste molto perché lei continui a lavorare su questa idea e finalmente nel 1818 esce il primo gennaio anonimo il libro Frankenstein. Grazie per la visione!